Ragazzi, finalmente mi avete dato questa grande gioia e siete tornati. Siete venuti qua. Gioia tutta nostra! Sono davvero contenta. Prima di tutto perché siete tutti e tre. E poi perché non credevo che queste tecnologie vi avessero così preso, così entusiasmato. Ne hanno soprattutto, se ne hanno preso. Lui insomma, non tanto... Vi voglio ricordare tutto quello che potete trovare e provare sulla vostra pelle qua dentro. Ecco, proviamo sull'elettromiostimolazione. La sua stimolazione elettromiostimolazione. Non la mia. Cioè, elettromiostimolazione. E' elettromiostimolazione, anche mia fatta da me, ma abbiamo questa ginnastica di 20 minuti collegata a un elettrostimolatore che tira soda, tonifica, esalta i tuoi muscoli. L'aria, invece, troverà agio e piacere nel pedalare nella hidrobike, che era soda, l'acqua, l'acqua, la cellulite. Lei non ce l'acqua, insomma, l'acqua le viene. Che si lavora, che dico pedala, vuol dire... Guido si ricorderà, dopo la sua esperienza sul roller shape, con un assaggiatore decontratturante, la meravigliosa passeggiata nella vacuum, con il sottopuoto, gli infrarossi. Vacuum è di garba, lui, vacuum, eh. E' lui che è vacuum. E' vacuum. Infatti, quel giorno è vacuum. Allora, fai parlare che sono cose interessanti. Però, a parte di tutto ciò, ripeto, il cuore mi fa tum tum. Lo sento un po', eh. La più grande soddisfazione è che vi siate ricordati, al di là dell'essere titolari di Tuenti, che io sono anche una coach. Esatto. E quindi il mio percorso dello scorso anno, che mi ha portato la qualifica di coach. Scusa, Francesca, spiegale a modo cos'è, perché lui è decoce. Perché lui è un po' decoce, io come coach. Cioè, lo so, però... Allora, innanzitutto vedo, Ilaria non l'ha portato perché l'ha già letto, e quindi se la interrogassi, saprebbe. Sì, sì, sì. Andiamo una pagina. Metabolizzato proprio. E andiamo a discutere su che cosa... Su quale sia l'importanza di questo testo. Non ci vedi. Non ci vedi. Non ci vedi. Il coaching è un cammino esperienziale. Esperienziale. Che va a farti uscire dalla tua zona di comfort, attraverso il viaggio dell'eroe che dalla caverna sale verso la luce del sole e conquista, abbandonando tutte le sue paure più gravi, la tanto ambita meta. Hai capito? Eh. Hai capito? Abbiamo pagina 70. 70. Perché metti l'occhiata. Ma me li metto per far... Perché mi contengono. Perché sono in tinta con la copertina del libro. Pagina 70. Le tappe del viaggio dell'eroe. Sono 11. No, 12, scusa. Sono 12. Se leggo vuoi il ditino. Ilaria non suggerire. Vuoi il ditino? Prove alleati e nemici. Questo va vissuto, va capito, va rielaborato. Perché potrebbe essere il tuo percorso. Hai capito? Oppure pagina 50. 50. Aspetta. L'N-A tipo. L'N-A tipo. L'N-A. Quest'analisi paragonata all'animale che rappresenta il tuo essere, il tuo uomo. Il proprio uomo. L'altruista e l'ottimista. La farfalla e Peter Pan. Il maiale in cielo. No, quello andava in un altro momento e sotto altri... Come poterò essere? Comunque anche la farfalla. Oppure l'analisi e lo studio del tema Natale. Natale. Bisogna essere sempre preparati. Il Natale e a me poi il Natale mi gabba. Sì, non vuole quello con l'albero, le palle. Questo è il tema Natale. 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 Io sono già stanco. Mi ho fatto risalire una caverna. Ma vedo, vedo, un po' provato anche lui. Sì. No, guarda, io questa spiegazione mi è entrata talmente dentro che mi sento proprio pervaso. Mi sembra di aver fatto due ore di palestra. Allora, più che pervaso, ti sei proprio un vaso. Eh. Lasciamo perdere i vasi e i pervasi. Vi faccio questa proposta. No, la siamo stati. Adesso, con tutte queste vive cognizioni e conoscenze di coaching, andiamo di là. Io vi motivo e voi vi rilassate nell'ActiveBab dove magari vi facciamo anche un massaggio. Io mi sento motivatissimo. Ah, vero. Sento che avete riesci. Andiamo, nell'ActiveBab. Senti motivati, andate, andate, io continuo a leggere e poi vi interrogo. Coach e donna. Anche guarda, senza sforzarmi proprio, dopo tutta la lezione lì, così. Il massaggio. Vido, il massaggio. Vai, vai, è bello. A mamma dietro il collo. Che sollievo. Ah, fantastico, all'affenda di un mondo. Ah, l'orecchio, con la U, l'orecchio, tanta robina. Ah, la gravigola. Da chi? Gravigola. Poi, ci vai solo te, che riempio. Ah, senti, io lo sapevo più un po' dalla fine, così, che loro si innamoravano. Eh, poi io me ne sono accorti solo. Che sogno, è un sogno fantastico. Speriamo che finisca più. Ehi, tu me ti ho portato? O dove? Ti ho portato alla 20. Alla 20? E si fanno i muscoli, sì, sì. Ma c'è meno 20? Eh, meno, uno, due, tre. E qui, ci sono facciate troppe caramelle. Sì, 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 sì. Ma che dove veniamo a fare? Perché c'hai la pancia? Sei cicciuna! Sei cicciuna! Sei cicciuna! Sei vero, sei peridiosa! Andiamo a allenarci! Tocca a noi! tocca a noi o allà tocca a noi ma che sono? tousse a chiudere qui siete già a ritardo? nooo è tocca a noi ma nooo passate in settimana via questa altra! ma sempre così? sempre così? avete un po di sfortuna nella vita è colpa tua sempre! che paura ma le sognavo viene da da un cardiologo Ma qui anche da un oncologo perché fanno a onco.